Un nuovo dolore ha invaso la vita di Rita dalla Chiesa che ha dovuto dire addio ad Emilia, la moglie del fratello Nando che si è speso all'improvviso lasciando un immenso vuoto nel cuore di tutta la sua famiglia. A rompere il silenzio in queste ore la scrittrice che ha condiviso con il pubblico di oggi è un altro giorno quello che è successo. Nel corso degli ultimi anni Rita dalla Chiesa ha condiviso con i propri fan alcuni dei momenti più belli della sua vita, insieme all'inevitabile dolore che l'ha colpita nel tempo come la recente scomparsa di Fabrizio Frizzi e quella del marito della figlia Giulia Cirese, Massimo Santoro, si è spento all'improvviso all'età di 52 anni. In queste ore, però, a commuovere il web è stato il messaggio che Rita dalla Chiesa nei giorni scorsi ha scritto per la scomparsa di Emilia, l'amatissima moglie del fratello Nando. Lutto per Rita dalla Chiesa. Si è spenta al culmine di una lunga malattia la cognata di Rita dalla Chiesa, Emilia Castelli, come la stessa scrittrice ha scritto nella sua pagina Instagram, pubblicando una foto che ritraeva la donna al fianco del marito Nando. Un immenso dolore, quindi, che ha colpito solo pochi giorni fa, Rita dalla Chiesa nella sua pagina Instagram ha scritto. Stamattina, dopo una malattia divorante, feroce, Emilia ha dovuto lasciare quell'abbraccio che è stato la sua casa per tutta la vita. Ed è andata verso il mare da sola. A noi ha lasciato la grande eredità di avere lottato per ogni suo respiro. E lei è arrivata, finalmente, in fondo all'orizzonte che guardava con il suo prof quella sera di due anni fa. Grazie, Emu, per tutto quello che ci hai regalato. Anche questo dolore, che si aggiunge ai troppi che la nostra famiglia ha già vissuto. Mi ha fatto riflettere. In occasione della messa in onda di una nuova puntata di oggi è un altro giorno. Condotto da Serena Bortone, Rita dalla Chiesa è tornata a parlare dell'addio all'amata cognata Emilia raccontando la lotta contro il cancro che la donna ha vissuto negli ultimi anni. Durante la diretta televisiva, Rita dalla Chiesa ricordando la compianta cognata ha dichiarato. Quando il tumore si era esteso alle ossa è stata una cosa molto violenta e forte. Ma lei ha combattuto sempre con un sorriso stupendo, con i nipotini, mi ha fatto riflettere molto questa cosa sulla dignità che ogni essere umano deve avere fino alla fine.